ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale nel tutorial di oggi andiamo a realizzare questa bellissima fascia è un progetto molto semplice utilizzeremo questo bellissimo punto che tra l'altro è molto fitto ideale per questo periodo dove è molto freddo la possiamo realizzare in tutte le misure per un adolescente come questa fascia che ho qua per un adulto o anche per un neonato durante il tutorial vi darò tutte le indicazioni può essere per esempio anche un idea regalo dell'ultimo momento perché veramente si fa in un attimo magari abbinata a una sciarpa usando lo stesso punto e adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzare la nostra fascia abbiamo bisogno del filato io oggi ho scelto questo bellissimo colore rosa chiaro purtroppo non trovo più l'etichetta del filo però vi posso dire che è composto da 60 per cento lana 40 per cento acrilico e richiede l'uncinetto del numero 6 voi chiaramente potete usare qualsiasi tipo di filato e adeguerete l'uncinetto in base al filato che andate ad usare ci serve un metro una forbice e un ago da lana e adesso non perdiamo altro tempo e mettiamoci subito al lavoro la prima cosa che dobbiamo fare prendiamo il nostro metro e misuriamo la circonferenza della nostra testa o della testa per chi è destinata la fascia se per esempio i centimetri che avete misurati sono 55 che di solito è la misura per un adulto da questi 55 centimetri vanno tirati via 4 5 centimetri perché bisogna sempre tenere presente l'estensione del filo altrimenti la fascia non tiene e vi scivola e questo vale per tutte le misure per realizzare questo bellissimo punto abbiamo bisogno di un multiplo di tre per cui voi adesso andate a caricare catenelle che vi servono per la vostra misura tenendo presente che il multiplo deve essere di 3 allora io col mio filato e il mio uncinetto ho caricato un totale di 72 catenelle e quando avrete caricato tutte le vostre catenelle prendiamo il filo sull'uncinetto per questo saltiamo 1 2 catenelle di base entriamo nella terza e andiamo a fare un punto alto e nella stessa maglia di base un secondo punto alto poi contiamo di nuovo due catenelle di base 1 2 entriamo nella terza e andiamo a fare un punto basso prendiamo il filo sull'uncinetto entriamo nello stesso punto e andiamo a ripetere una maglia alta e nello stesso punto una seconda maglia alta per cui in questo punto abbiamo fatto un punto basso e due maglie alte saltiamo due punti di base 1 2 entriamo nel terzo e andiamo a ripetere un punto basso e due maglie alte un punto basso e due maglie alte tutto nella stessa maglia di base come potete vedere lavoro molto facile saltiamo di nuovo due punti di base 1 2 entriamo nel terzo e e ripetiamo prima il punto basso e poi le due maglie alte 1 e 2 saltiamo due punti di base entriamo nel terzo e ripetiamo punto basso e due maglie alte e questo lavoro lo ripeteremo fino alla fine di questa riga e quando siamo arrivati quasi al termine e ci avanzano le ultime tre catenelle saltiamo una due catenelle entriamo nella terza e qui andiamo a fare un punto basso e così termineremo ogni riga come potete vedere il punto è molto bello iniziamo la seconda riga con due catenelle una e due e voltiamo il nostro lavoro subito qua nel primo spazio andiamo a fare due maglie alte una e due e in questo modo inizieremo ogni riga due catenelle e subito nel primo spazio due maglie alte adesso andiamo a contare una due maglie entriamo nella terza che equivale alla maglia bassa del giro precedente entriamo e qua andiamo a ripetere il punto basso e le due maglie alte una e due saltiamo di nuovo due punti di base 1 2 entriamo nel terzo che è il punto basso del giro precedente e andiamo a ripetere punto basso e due maglie alte saltiamo di nuovo due punti 1 2 entriamo nel terzo che è il punto basso e ripetiamo punto basso e due maglie alte di nuovo due punti saltati 1 2 entriamo nel terzo e ripetiamo punto basso e due maglie alte e ripeteremo questo fino alla fine di questa riga e quando ci avanzano le ultime tre maglie prima di terminare la riga saltiamo 1 2 maglie di base entriamo nella terza e fate attenzione perché questa terza maglia tende sempre a nascondersi e andiamo a fare un punto basso e abbiamo terminato anche questa seconda riga iniziamo con due catenelle voltiamo il nostro lavoro e come prima nel primo spazio subito andiamo a fare le nostre due maglie alte e poi ripetiamo saltiamo 1 2 punti di base entriamo nel terzo che è il punto basso del giro sottostante e andiamo a fare il nostro punto basso e le nostre due maglie alte saltiamo di nuovo due punti 1 2 entriamo nel terzo e ripetiamo punto basso e due maglie alte come potete vedere il lavoro è molto ripetitivo non possiamo sbagliarci non è particolarmente difficile saltiamo ogni volta due maglie di base entriamo nella terza e ripetiamo punto basso e due maglie alte e così andiamo avanti a fare riga dopo riga fino a raggiungere l'altezza desiderata io adesso farò un po' di righe e poi vi dirò i centimetri realizzati io sono andata avanti a fare riga dopo riga e ho raggiunto l'altezza di 11 centimetri se voi la fascia la volete più alta farete una o due righe in più se la volete più bassa vi fermerete una o due righe prima questo chiaramente dipende anche per chi andate a fare la fascia perché se per esempio la realizzate per un neonato chiaramente bastano poche righe torniamo intanto qua alla fine dell'ultima riga andiamo a fare una catenella tiriamo bene allunghiamo l'asola e tagliamo il filo abbastanza lungo perché ci servirà per cucire la nostra fascia facciamo passare intanto il filo poi andiamo a procurarci l'ago da lana e andiamo a fare questo lavoro prendiamo un'estremità e la pieghiamo in due in questo modo prendiamo l'altra estremità e andiamo a fare la stessa identica cosa in modo che abbiamo il lavoro messo così adesso infiliamo questo lato all'interno di queste due metà in questo modo e questo lato esterno all'interno di questi due lati andiamo a fare questo lavoro qua cerchiamo di fare un lavoro ben preciso in modo che arrivino fino agli angoli in questo modo e poi prendiamo il nostro ago il nostro filo vedete qua bisogna riempire lo spazio ecco e andiamo a fare una cucitura tutta lunga questa striscia passando in tutti i quattro i strati per cui prendiamo l'ago state attente da passare veramente in tutti i distratti e poi faremo questa cucitura molto semplice fino alla fine potete anche tirare leggermente il filo l'importante è che voi passiate o prendete tutti i quattro gli strati e quando siamo arrivati al termine torniamo indietro in modo da rendere il lavoro sicuro faremo la cucitura fino a dove siamo ripartiti arrivati qua alla fine da dove eravamo partiti possiamo fare ancora un nodino e poi nascondere questo filo prendere poi le nostre forbici e tagliarlo e poi andiamo a girare la nostra fascia cerchiamo di dare la bella forma e guardate questo bellissimo risultato con questo bellissimo punto è un bellissimo progetto un bellissimo punto lo potete fare in tanti colori diversi come ho detto prima per tutte le taglie anche per un neonato spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un like abbonatevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial ciao